Vado io? Allora, il Consiglio dei Ministri ha approvato anche tre importanti provvedimenti normativi, ovviamente sotto la forma del disegno di legge che quindi è rappresentata al Parlamento per la successiva approvazione e in alcuni casi un caso, un disegno di legge delega. Sono provvedimenti importanti che fanno seguito ad una giornata molto importante perché c'è stato il confronto che col Presidente del Consiglio abbiamo avuto con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, dove quindi si è fatta anche un po' una valutazione di quello che il Governo ha già messo a disposizione del comparto per quanto riguarda risorse che sono in legge di bilancio per il rinnovo dei contratti degli appartenenti al contratto. Con l'occasione quindi si è completato il quadro dei riferimenti e delle iniziative che il Governo ha adottato con appunto questi tre provvedimenti, il primo dei quali è uno schema di disegno di legge che rega disposizione in materia di sicurezza pubblica di tutela delle forze di polizia nonché delle vittime dell'usura e dei reati di tipo mafioso. In buona sostanza evidenzio solo alcuni dei punti fondamentali, è un provvedimento che si occupa di alcuni inasprimenti normativi per quanto riguarda alcune figure di reato molto importanti in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale, per esempio viene introdotto il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e in buona sostanza anche poi un'anticipazione della soglia di punibilità anche per chi distribuisce di fondo pubblicizzo con qualsiasi mezzo anche per via telematica, materiale che contiene istruzioni per la preparazione e l'utilizzo di materie esplodenti che servono alla commissione di reati gravemente offensivi come la strage, l'incendio e altro. Insomma viene in qualche modo rafforzata la tutela penale per quelle che sono reati che in qualche modo connessi ai fenomeni terroristici anticipando la soglia di punibilità o di concretizzazione del reato. In questo ambito ci mettiamo anche, abbiamo previsto la sanzione, c'è una disposizione che prevede l'introduzione della sanzione a carico degli esercenzi dell'attività di noleggio di veicoli senza conducenti in caso di omessa comunicazione dei dati che identificano i soggetti che hanno preso a noleggio. Sapete una norma che in precedenza era stata introdotta ma senza che fosse prevista una sanzione. Ci sono normative che tendono a rendere più fluide la gestione di beni sequestrati e confiscati insomma riguardo alla possibilità di procedure semplificate per risolvere i problemi di difformità urbanistiche di beni che sono stati acquisiti dall'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati, altre norme in tal senso per migliorare. C'è una norma che prevede l'estensione da 3 a 10 anni il periodo entro il quale è possibile la revoca della cittadinanza concessa in precedenza allo straniero in caso di condanne definitive per gravi reati già previsti a legislazione vigente. Poi c'è tutta una serie di norme che in qualche modo sono correlate anche a quella che è stata l'interlocuzione della mattina con i rappresentanti del comparto. Vabbè innanzitutto sono norme che quindi o per tutela diretta degli appartenenti o per l'essere finalizzati a creare condizioni operative maggiori, migliori per gli operatori delle forze di polizia e del comparto sicurezza difesa.